La Skullbox di agosto è una box semplice nel contenuto, ovvero gli strumenti sono intuitivi su come appunto si utilizzano, ma non così semplice nel tema da interpretare, avendo a disposizione così veramente pochi strumenti. Quindi innanzitutto quello che ci dicono è di andare in strada, di sperimentare, di guardare i vari blocchi di colori e di disegnare senza pensare troppo e andando a giocare un po' anche con gli spessori dei bordi, dei contorni e di andare anche, di non preoccuparsi troppo del risultato finale. Il tema del mese è distopia digitale, ovvero è una interpretazione in negativo del futuro perché distopia è praticamente l'opposto di utopia, per cui è una visione un po' negativa e catastrofica del futuro partendo dalla realtà che ci circonda. E quindi poi vi faccio vedere come l'ho interpretato io, ovviamente come tutti i mesi abbiamo l'adesivo del mese, il disegno dell'artista del mese, ma io dubito che questo lo abbia realizzato solo con i prodotti della box perché mi sembra abbastanza improbabile e ovviamente lo scrolls in che questo mese non è stato di grande aiuto perché appunto era molto semplice capire cosa fare perché non si tratta altro che di utilizzare dei colori simili all'uniposca. Il funzionamento e l'effetto è quello degli uniposca. Innanzitutto il primo prodotto che troviamo sono proprio questi marker simili all'uniposca che sono i Molotov One For All Acrylic Twin. Twin perché hanno la doppia punta, ovvero la punta più sottile e quella più grande, però entrambe sono comunque rotonde, non sono di quelle a scalpello e qui c'è il disegno di dove si trova appunto la punta più fine e quella più grande, quella più sottile è da 1,5 mm mentre quella più spessa è da 4 mm e arrivano in queste tre colorazioni, quindi nero, azzurro e verde. Questi sono dei marker da finisce molto molto opaco e resistenti anche alla luce e possono essere utilizzati un po' su tutte le superfici, proprio come uniposca, quindi la tela, la plastica, il vetro, il legno o comunque altri materiali e sono a base di acqua e si possono quindi anche mischiare tra di loro, io però questo esperimento sinceramente non l'ho fatto e anche perché poi comunque asciugano molto molto rapidamente, per cui da asciutti sono comunque permanenti e idrorepellenti. La cosa positiva di questi, qui abbiamo praticamente anche una finestrella che praticamente mostra il livello di carica del colore con una barra appunto numerata perché la particolarità di questi colori è che sono ricaricabili e quindi sono un po' diciamo anti spreco perché anziché buttare tutto questo si compra la ricarica e si getta via solo il tubetto della ricarica. Dopodiché abbiamo questa penna qua che è la Zeek Velium Twin Marker. Anche qui abbiamo una penna a doppia punta quindi sottile da questa parte e più grande dall'altra però non ha scalpello sempre punte rotonde e anche qui con l'indicazione di dove si trova la punta più grande e quella più fine e questa praticamente ha questa doppia punta da 0,05 mm e da 1,2 mm a base di acqua idrorepellente, resistente alla luce e senza odore. Ovviamente questo serve per creare zone d'ombra o comunque per creare giocando appunto su linee più grandi e più spessi, più sottili di bordi. Poi abbiamo questa penna qua che è la Derwent Color Line Marker e praticamente potevano arrivare tre diverse colorazioni il giallo, il rosso, il rosa e il magenta. A me è arrivato il magenta e sinceramente sono anche contenta. e infatti all'inizio ci dicono quale avete trovato e io punto questa. Questa è praticamente una penna dalla punta ultra sottile che è resistente e però anche resistente. Il tratto che produce è un tratto liscio senza sbavature ed è permanente e quindi può essere poi utilizzata sopra a qualunque altro medium o comunque altro prodotto ed è da 0,3 mm e ovviamente mi piace molto il pack trasparente che mostra l'inchiostro. e poi abbiamo la classica penna gel bianca che è la Unisigno Broad White Pen e questa ha la punta da 1 mm, è una punta da penna classica ed è completamente bianca opaca ed è appunto una penna in gel. Quindi permette di creare delle linee molto pulite e precise e serve proprio a creare degli dettagli luminosi o può essere invece utilizzata però anche come correttore laddove andiamo magari fuori da bordo e comunque dobbiamo correggere qualcosa. e l'impugnatura che ha è molto comoda perché è gommosa e tra l'altro io oserei dire è bellissimo questo effetto che ha qui degradé, è molto carina, è veramente molto molto carina. E poi ci arrivano i Deller Runway Mix Media Art Board e sono tre fogli ovvero tre cartoncini cartoncini oserei dire, i belli spessi, proprio perché sono adatti ad essere utilizzati con questo tipo di prodotti e quindi niente, sono questi cartoncini spessissimi e sono adatti comunque ad ogni tecnica e ad ogni media quindi la matita, gli inchiostri, i pastelli, i carboncini ma appunto anche acrilici e acquerelli. Ma veniamo al mio disegno, ovvero io ho creato questo. Allora, ovviamente è molto simile a qualcosa che si può creare con l'Uniposca sinceramente ho trovato molto difficile riuscire a creare disegni articolati non solo per la poca scelta di colori ma anche per il tipo di colore che non permette comunque, ecco, sfumature o comunque effetti particolari cioè questo è così, è una vernice. E io però ho pensato di interpretare così il futuro, ovvero essendo il nostro mondo super inquinato la mia distopia prevede che la natura cambi a causa appunto dell'inquinamento i suoi colori per cui ci potremo ritrovare in un futuro a osservare il cielo notturno e trovare la luna con delle macchie rosse e le nuvole di questi colori e sinceramente non sarebbe un bel vedere. e quindi fatemi sapere se vi piace la mia interpretazione del tema del mese ho cercato di arrangiarmi in questo modo e se vi incuriosisce qualche prodotto, se già li conoscevate, insomma fatemi sapere e niente, noi ci vediamo ovviamente al prossimo video, ciao!